Esistono dei cavi sul fondale del mare? Avendo visto queste foto ti sei incuriosito e volevi capirci di più? Allora sei nel posto giusto, dopo questo video saprai che tipi di cavi esistono, come avviene la loro installazione, quanti cavi ci sono, se sono affidabili, e le loro vulnerabilità, in più una informazione extra che troverete a fine video. Buona visione! Che cosa sono? Sono dei cavi presenti sui fondali degli oceani o dei mari. E possono essere di due tipi, quelli che trasmettono dati, o corrente elettrica. Installazione Per posare i cavi sul fondo del mare vengono utilizzate delle navi speciali chiamate posacavi, che scavano un solco sulla sabbia, e contemporaneamente mettono il cavo. Le navi posacavi funzionano se il terreno è sabbioso, altrimenti il cavo viene solo appoggiato e protetto con delle mattonelle di cemento. Ma quanti cavi ci sono? Se sei curioso di conoscere nuove cose, nel nostro canale potrai esprimere il tuo desiderio. Esistono diverse reti di cavi sottomarini che collegano i numerosi continenti. Queste reti danno vita a una complessa infrastruttura globale che trasporta dati, traffico internet, telefonate internazionali e energia elettrica. Affidabilità I cavi sottomarini sono idealizzati per essere affidabili e resistenti alle condizioni marine. Sono progettati con materiali e tecniche di protezione per resistere alla pressione dell'acqua, alle correnti marine, alle variazioni di temperature e a economia digitale. Questi cavi hanno un ruolo chiave nell'economia digitale moderna, si infatti consentono flussi continui di informazioni, servizi cloud, comunicazioni aziendali, trasferimento di dati scientifici e molto altro ancora. Vulnerabilità Anche se i cavi siano progettati per essere molto resistenti, possono essere vulnerabili a danni accidentali. Causati da attività di pesca non controllata, movimenti di placche tettoniche, attività sismiche o interventi umani non autorizzati, possono danneggiare i cavi e interrompere le comunicazioni. Adesso ti dirò l'informazione bonus. Quanto costano? Il fattore principale che fa variare il costo di un cavo sottomarino è la sua lunghezza, ma per farci un'idea, diciamo che i cavi di medio raggio si aggirano tra i 5.000 e 10.000 km. Il costo quindi varia tra 300 milioni e un miliardo di dollari. Se vuoi imparare nuove cose, non ti resta che iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo video.